Il lungomare di Napoli resterà per sempre pedonale. L'esperimento Coppa America ha funzionato, scatenando l'entusiasmo dei cittadini che in questi giorni continuano ad affollare via Caracciolo per assistere alle regate. E il sindaco De Magistris non ha dubbi, il provvedimento diventerà definitivo. Questa sarà la normalità. È stata apparentemente l'eccezione per l'America Scap, ma non è così. Io ne ero convinto sin dall'inizio. Poi la straordinaria partecipazione di persone in questi giorni, nonostante il parziale cattivo tempo, ci hanno confermato la straordinaria opportunità di un lungomare liberato dalle auto e dobbiamo riempirlo di persone, di iniziative, di musica, di cultura, di percorsi enogastronomici, di art, di bici, di skateboard, di pattini. Questo sarà il lungomare nei prossimi anni. Dal 26 aprile, quindi, i 4 chilometri di strada che collegano Largo Sermoneta a Piazza Municipio resteranno chiusi alle auto. Saranno rivisti gradualmente i dispositivi di traffico sulla riviera e l'obiettivo è pedonalizzare l'intera area entro l'estate. Adesso dobbiamo mettere a punto un piano della mobilità, ovviamente, che sostenga le persone che vengono qua anche dalla provincia e dalla regione, tutti i turisti, rafforzare i parcheggi e rivedere alcuni dispositivi di transito alle spalle del lungomare. Intanto, per l'ultimo weekend delle gare di Coppa America, l'assessore alla mobilità, Anna Donati, annuncia un piano straordinario di potenziamento del trasporto pubblico. Un servizio di navette collegherà i parcheggi del centro direzionale e fuori grotta alla zona di Chiaia. Sarà prolungato l'orario delle funicolari e garantite ogni sette minuti le corse della linea 1 della metro.